Alcuni giorni fa un nostro lettore ci ha scritto voleva dei chiarimenti sulle modalità per realizzare la carta d'identità in comune e noi abbiamo chiesto all'assessore Paola Cianci. Sentiamo cosa ha detto. Il rilascio di un numero prestabilito di biglietti al momento dell'apertura dell'ufficio è necessario per l'organizzazione dell'ufficio stesso e per la gestione degli ingressi delle utenti all'interno del comune e viene effettuato tenendo conto di quello che è l'orario di apertura al pubblico considerando che per ogni carta d'identità si impiega all'incirca 15 minuti però molto spesso lì dove non ci sono degli intoppi si va ben oltre il numero prestabilito di biglietti che vengono inizialmente rilasciati. Io ci tengo anche a sottolineare che una valutazione va fatta in maniera complessiva ovvero bisogna pensare che solo nell'anno 2022 il comune di Vasto l'ufficio competente ha rilasciato circa 4.000 carte d'identità un numero superiore a quello che si registra nei comuni limitrofi e quindi sicuramente da considerarsi un risultato positivo. Quali sono le novità che adesso verranno immesse per quanto riguarda proprio la trafila della carta d'identità? Proprio per andare incontro alle esigenze di tutti i cittadini dalla prossima settimana e oltre a lasciare la possibilità dal lunedì al venerdì, il martedì e il giovedì pomeriggio di poter accedere senza prenotazione, le giornate di martedì e giovedì saranno dedicate anche agli appuntamenti con prenotazione che potranno essere effettuate tramite il portale messo a disposizione dei comuni italiani dal Ministero dell'Interno e ovviamente questa possibilità però è riservata ai possessori di SPID o carta d'identità elettronica, quindi di CIE. Questa novità è stata introdotta soprattutto per andare incontro sia a coloro che hanno dimistichezza con la tecnologia, considerando che ci troviamo anche nell'era della transizione digitale di servizio pubblico e amministrazione, però anche di andare incontro all'esigenza di chi soprattutto in età avanzata preferisce ovviamente un sistema più semplice che è quello di accedere al servizio senza prenotazione attraverso i sistemi digitali. Un'altra novità è quella che abbiamo richiesto una terza postazione e quindi verrà potenziato anche il personale in modo che quei numeri importanti che ho appena citato potranno aumentare ancora di più e allo stesso tempo abbiamo richiesto l'attivazione di un post per dare la possibilità ai cittadini di effettuare il versamento, il pagamento dei diritti necessari ai fini dell'emissione della carta d'identità presso il comune ma proprio all'interno dell'ufficio competente al rilascio delle carte d'identità evitando quindi di andare fuori dalla struttura comunale che comporterebbe un maggiore aggravio della tempistica necessaria per ottenere la carta d'identità. Miriam Gian Giacomo, Vasto Web